Finalmente ti sei convinta della necessità di iniziare a mangiare più legumi, ma ogni volta che ci provi, nell'arco di un'ora ti senti come un balloncino durante una festa di compleanno, pronta a scoppiare al minimo tocco e per non parlare di quello che succede dopo. Imbarazzante anche solo pensarci, non sei solo in questa situazione, non sei la prima e non sarai nemmeno l'ultima, queste piccole difficoltà iniziali spingono troppe persone a rinunciare ai legumi, nonostante siano un vero e proprio tesoro nutrizionale. Ma non temere, oggi ti aiuterò a incorporarli in modo corretto nella tua dieta, senza la necessità di prenotare un posto fisso ogni volta nel bagno più vicino. I legumi, come fagioli, lenticchie, cece e piselli, sono ricchi di proteine, fibre, vitamine e minerali, rendendoli un'aggiunta preziosa e sostenibile alla nostra alimentazione. E tuttavia il loro contenuto di carboidrati fermentabili può effettivamente creare un po' di disagio se i tuoi batteri intestinali non sono abituati ad averne a che fare, ma la buona notizia è che li possiamo abituare noi o più correttamente selezionare per poter poi godere dei benefici di questi alimenti senza più alcuna sofferenza, trasformandoli dai cattivi della festa agli ospiti d'onore che aspettavi da tempo. Partiamo allora con il consiglio più banale di tutti, ma proprio per questo sottovalutato. Inizia da quantità piccole e per piccole intendo davvero ridotta, ad esempio 6 o 7 ceci nell'insalata o magari come antipasto da spiluzzicare mentre prepara il pranzo. Puoi ad esempio usare quelli in lattino o in barattolo di vetro dopo averli sciacquati bene dal sale in eccesso, così che possano poi essere conservati per qualche giorno in frigorifero senza problemi. In alcuni supermercati ogni tanto si trovano anche quelli tostati in sacchetto tipo patatine, sono davvero buoni, anche se purtroppo spesso un po' troppo generosi di sale, ma per qualche giorno dai non sarà un problema e sono anche questi un buon compromesso per iniziare. Inutile dire che li puoi tostare anche a casa, ma diciamo che l'idea alla base di questo video è di trovare anche quelle strade che siano più facilmente percorribili. Il secondo consiglio chiave è la regolarità, non basta iniziare, per applicare una vera pressione di selezione sulla tua flora batterica intestinale o più correttamente microbiota devi essere costante. Serve tuttavia una certa sensibilità continua da parte tua, giocando con dimensioni delle porzioni e frequenza di consumo che dovranno essere aumentate pian piano. Se il tuo obiettivo è arrivare a mangiarli solo una volta alla settimana, potresti anche non riuscirci, bisognerebbe invece puntare a un consumo più regolare, più frequente. Secondo le linee guide italiane per una sana alimentazione, ad esempio per avere una dieta variata ed equilibrata, è bene includere da 2 a 4 porzioni a settimana di legumi, anche se nulla vieta un consumo maggiore. Come per qualsiasi altra classe di alimenti, non occorre fissare un limite superiore alla frequenza di consumo, perché l'indicazione delle porzioni è orientativa e non prescrittiva. L'unico limite è dato dall'equilibrio generale della dieta e dalla presenza di tutti gli altri alimenti nelle giuste proporzioni. Ascoltando il tuo corpo, quindi, e la tua pancia in particolare, dovrai aumentare piano, 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 piano il consumo, sia attraverso le porzioni che si avvicineranno progressivamente alla dimensione finale, sia decidendo ogni quanto consumarle. Oh, nessun problema a rallentare se si rendesse necessario, ma ricorda di non lasciar passare troppi giorni per non dover ricominciare tutto dall'inizio. Un'altra variabile su cui puoi giocare per abituare il tuo pancino è la varietà. Non solo una rotazione di diversi legumi, è utile selezionare tutte le specie batteriche necessarie in proporzioni abbastanza flessibili da adattarsi alle tue scelte alimentari, ma ti permette anche di optare per opzioni più facilmente tollerabili, digeribili, soprattutto all'inizio. E penso ad esempio ai piselli, che in genere non danno troppo fastidio neanche ai soggetti più sensibili e che magari sei già abituato a consumare, ma penso anche ad altre scelte facili da gestire, che comprendono le lenticchie, che con una buccia particolarmente sensibili sono più digeribili. I legumi decorticati, in cui la buccia è stata proprio eliminata, nutrizionalmente si perde più di qualcosa, è vero, ma per ora non preoccuparti, ci serve come semplice passaggio. E nei giorni in cui ti serve prenderti una pausa, valuta fagioline e taccole, nutrizionalmente sono verdura, ma botanicamente parlando sono fagioli e ti aiuteranno a non perdere il giro. Poi, pian piano, prova tutto quello che ti capita sottomano, fagioli borlotti e cannellini, fagioli dell'occhio, fagioli a zucchi, fagioli neri, ceci, fave, lupini, cicerchie, tutto quello che trovi al supermercato. Prova tutto, ne vale davvero la pena e non solo abituerai l'intestino a ogni possibile varietà, ma soprattutto all'inizio esporlo a piccole porzioni, sarà anche più semplice, perché le diverse sostanze presenti in ciascuna varietà eviteranno, come posso dirti, il rischio di accumulo e sovraccarico. Passiamo ora ai metodi di preparazione, che possono darci una grossissima mano nel produrre quegli antipatici effetti di gonfiore e flatulenza. Procedendo in ordine, quando decidi di partire dai legumi secchi, l'ammollo è davvero fondamentale per abbattere non solo il contenuto in sostanze antinutrizionali, ma anche per preparare correttamente i legumi alla successiva cottura. L'ammollo deve essere adeguatamente lungo, l'indicazione che trovi sulla confezione va intesa come tempo minimo e sarebbe preferibile cambiare almeno un paio di volte l'acqua di ammollo, che poi andrà comunque buttata e sostituita al momento della cottura. Nei primissimi tempi, volendo, potresti anche pensare di cambiare l'acqua a metà cottura, per ridurre ulteriormente la frazione residua di olio saccaridi fermentabili, precauzione che poi con il tempo ovviamente non sarà più necessaria. Parlando di cottura, alcune indicazioni pratiche e utili. 1. Aggiungi un pezzetto di alga kombu, la trovi in qualsiasi negozio di articoli bio. Non solo beneficerai di iodio o altri micronutrienti dell'alga, ma aumenterai anche la tollerabilità del legume in cottura. 2. A differenza della pasta di cereali in genere, i legumi non devono essere consumati al dente, ma al contrario cotti bene. Con il tempo e le esperienze imparerai a tollerarli anche con quella meravigliosa consistenza di leggera resistenza esterna, ma all'inizio credimi, meglio averli un po' più spappolati perché più digeribili. Anzi, e qui siamo al terzo, tutte le preparazioni che prevedono di tritarli o schiacciarli sono utili per chi iniziano la digestione al tuo posto e penso ovviamente ai passati di verdura, la cui aggiunta di legumi dona quella sublime cremosità, ma penso anche all'humus di ceci o altro che sia, che è una crema da spalmare sul pane o da consumare con la verdura. O, per inciso, il fatto che il frullarli sia d'aiuto alla digestione dovrebbe bastare a farti capire l'importanza di un'attenta e prolungata masticazione, soprattutto all'inizio di questo percorso il fatto che una buona digestione inizi in bocca è davvero un'arma da sfruttare a tuo favore. E già che stiamo parlando di alternative alle tradizionali modalità di preparazione, vale la pena ricordare almeno due soluzioni particolarmente utili perché facilmente digeribili. Sto pensando ad esempio al tofu, in cui fibre e carboidrati praticamente non ci sono più, a beneficio di una concentrazione delle proteine, diventando quindi facilissimi da digerire. Ma penso anche al tempeh, che ormai trovi sempre più spesso anche nella grande distribuzione, nel banco frigo, in genere proprio di fianco al tofu. Il tempeh vede ancora la presenza del legume intero, in genere la soia, ma non solo a volte ceci o altro. Il tempeh è un alimento davvero speciale grazie alla fermentazione con cui viene preparato, ma è ideale anche per abituarsi progressivamente al consumo dei legumi e questo per almeno due ragioni. La prima, la fermentazione che avviene durante la sua preparazione riduce la fermentazione che poi avverrà nella tua pancia, senza contare che il processo di preparazione richiede l'eliminazione preventiva delle bucce, trasformando i semi di soia o del legume scelto in semi decorticate di fatto, che come abbiamo visto prima sono più facili da digerire. Valuto infine anche il consumo di legumi germogliati, non voglio divagare parlandoti dei benefici nutrizionali dei germogli, ma credimi, si tratta di una combo davvero speciale. E concludiamo con un ultimo consiglio, forse il più importante di tutti, la regolarità. No no, non mi sono sbagliato, so che te ne ho già parlato, ma credimi, è davvero fondamentale per esercitare una pressione selettiva sufficiente non solo a determinare un cambiamento nel tuo intestino, ma soprattutto a mantenerlo nel tempo. I batteri che hai nel colon mutano continuamente sia in quantità che in qualità, e questo per adattarsi con costanza alla tua dieta. Non è necessario mangiare legumi tutti i giorni come fanno i vegani per mantenere l'abitudine, ma è certamente necessario mantenere comunque una buona frequenza di consumo, diciamo il meno 2-4 volte alla settimana come da linea guida, poi chiaramente c'è una diversa sensibilità individuale di ciascuno. Io ad esempio quando ho dell'hummus che magari gira per casa mi capita spessissimo di sceglierlo al mattino, da spalmare sul pane della colazione, oppure aprirmi la ciotolina mentre preparo la verdura per il pranzo e dare una pucciatina ogni tanto, così tanto per gradire. E che dire della farinata, è un antipasto perfetto da presentare magari già tagliata a quadratini direttamente sul piatto di portata, preparandolo in abbondanza, metti in frigo, dai una scaldata veloce tirandola direttamente fuori e via. E quando sei di corso, sei semplicemente troppo stanca per cucinare, ma cosa c'è di meglio di un bel barattolo di legumi e un vero salvacena? Mischiati con del mais, anche lui da lattina, richiedono solo una veloce sciacquata e sono pronti da mettere in tavola. Allora che ne pensi, ti ho convinta? Io per ora non posso che dirti grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante, né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!